Adesso applicheremo le due meccaniche dei due riff in E e in A su un giro di blues. Quindi giro di blues in E. Grazie per la visione! Ok, allora stiamo attenti, turn around finale, il primo accordo è E, quindi riff 1 in E, poi riff blues in A, poi faccio un B7, vado su di mezzo tono, half tono, E' carino perché slitti indietro. Quindi, allora... Grazie a tutti! E questo è B9, B9. Ok, lo rifacciamo per la destra. Grazie a tutti! Grazie a tutti!